Segnalate tutto e apostrofo, Ursula Bennardo e Sossio Aruta furiosi, ecco cosa è successo Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono davvero in crisi? Alcuni giorni fa è iniziata a circolare con insistenza che tra Ursula e Sossio ci potrebbe essere una crisi in atto Notizia che è stata seccamente smentita da parte dei diretti interessati Ma allora cosa sta accadendo ai due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne? Le ultime dichiarazioni fatte dalla Bennardo al magazine di Gossip Depot avevano fatto intendere che l'ex cavaliere non amasse più come prima la dama pugliese Ora ha ambiato idea? Entrambi hanno decisa di raccontare tutta la verità, smentendo categoricamente tutte quelle false voci che circolano sul loro rapporto sentimentale Sossio Aruta rompe il silenzio e dice la sua verità Attraverso il suo profilo Instagram, Sossio ha voluto chiarire alcune cose importanti che riguardano la sua storia d'amore con Ursula L'ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne ha detto che ha fatto questa storia su IG per tutti i loro follower che li seguono, soprattutto per quello che si vocifera ultimamente sui social, della crisi tra lui e la Bennardo A quel punto il calciatore Campano ha riferito che è arrivato il momento di sapere la verità, mostrando il pancione della sua amata Quindi per i due non c'è nessuna crisi in atto, rimproverando tutti coloro che credono ad ogni cosa Ma come fate a credere a queste cose? Bloccatele queste pagine, segnalatele perché sono veramente assurde C'è da dire, però, che le dichiarazioni fatte da Ursula al magazine di Puff facevano intendere che qualcosa non andava fra i due Si sono ricreduti Il dubbio nato dalle parole di Ursula rilasciate a di Puff Il tutto era partito qualche giorno fa quando l'ex dama del trono over aveva fatto delle clamorose dichiarazioni al settimanale di gossip di più Parole che facevano intendere che Sossio Aruta non fosse più soddisfatto della vita di coppia e che addirittura Ursula metteva in dubbio l'amore che prova nei suoi confronti Ora è arrivata la secca smentita affermando che la loro relazione va alla grande Per caso li vedremo a Temptation Island Vip Grazie per aver guardato il video